Ha scambiato un poliziotto per un suo cliente, ha cercato di vendergli una dose di cocaina. È finita con le manette ai polsi la giornata di due giovani marocchini di 22 e 34 anni stanati dalla squadra mobile nei boschi prospicenti Piano di Arcola. Dalla indagine è emerso che in realtà dietro a quel momento di spaccio c'era una rete redditizia e ben organizzata in mano a un gruppo di nordafricani. La squadra mobile ieri ha effettuato una delle attività di pedinamento, appostamento e investigative nei confronti di questi soggetti e è successo che uno dei nostri agenti è stato avvicinato dal giovane spacciatore, un ragazzo del 1997, il quale gli ha chiesto cosa ti serve. Lo ha scambiato per un acquirente e chiaramente è stato servito lui in questo caso perché è stato immediatamente immobilizzato e ammanettato. Un'altra cosa particolare però non è il solito arresto di spacciatori, un po' perché è stata sgominata proprio questa gang che riforniva anche le zone costiere dei Lerici e San Terenzo ma più che altro erano abbastanza guerriti, abbastanza organizzati, tant'è che a fronte del più giovane che si occupava direttamente dello spaccio c'era un altro soggetto più anziano di una quindicina di anni più anziano che gli faceva da guardaspalle armato anche abbastanza bene con un coltellaccio da sub e con un manganello telescopico. Nel complesso sono stati sequestrati 45 dosi di cocaina del valore complessivo di 5.000 euro, un coltello da sub, un bastone telescopico vietato in Italia e un bilancino di precisione. Al termine dell'arresto però un cellulare ha cominciato a suonare. Erano i clienti del giovane pusher arrestato che cercavano di acquistare della droga. Per alcuni di loro partiranno le segnalazioni come assuntori di stupefacenti. In ufficio continuava a squilare il cellulare, tant'è che i ragazzi sono venuti e hanno chiesto cosa facciamo, ha detto rispondiamo, qualifichiamoci come squadra mobile e invitiamo un certo numero di clienti a presentarsi in questura. Qualcuno insomma un po' con titubanza comunque si sono presentati questi clienti che altrimenti avremo poi identificato col numero di telefono e contattato ugualmente. Con questa indagine si dimostra che lo spaccio alla spezia si sposta. Infatti queste persone sono state fermate in una zona boschiva. Diciamo che una parte del mercato si è spostato dalle piazze dove tradizionalmente venivano effettuate queste azioni di spaccio alle zone boschive situate nelle prime periferie della città. E quindi adeguandoci al cambiamento delle abitudini degli spacciatori, ugualmente noi abbiamo cercato di commutuare e di adeguarci con nuove tecniche investigative. Quindi da squadra mobile urbana siamo diventati un pochino si quadra mobile boschiva nel senso che è un ambiente dove è più difficile individuarli, dove è più difficile intervenire perché è più facile nascondersi.